Gentili, signore e signori, è difficile riassumere lo straordinario valore ambientale conservato dai sei siti Ramsar che si affacciano sul golfo di Oristano. Fra i primi ad essere inseriti nella lista dei siti protetti dalla Convenzione, ospitano la nidificazione e la migrazione di oltre 100 esemplari di uccelli, alcuni dei quali sono rarissimi nel vaccino mediterraneo. Maristanis, il progetto portato avanti della Fondazione MedSea, è fondamentale per la conservazione e lo sviluppo sostenibile delle zone umide oristanesi. Maristanis non opera solo al fine di conservare fauna e flora, ma ha incluso nella sua visione gli uomini e il loro lavoro, la cultura e l'arte, le energie profonde di una terra da millenni al centro della storia mediterranea. Non passiamo quindi che cogliere l'occasione offerta dal cinquantesimo anniversario della Convenzione di Ramsar per augurarvi buon lavoro e ogni successo, certi che il vostro impegno contribuirà a preservare il fragile equilibrio ambientale delle zone umide e a rendere condivisa la consapevolezza del loro valore e della loro bellezza. Apprezziamo la natura di partecipata e collettiva di Maristanis, che ha permesso a Mezzi di raggiungere l'importantissimo traguardo del contratto di costa e delle zone umide costiere. Un obiettivo importantissimo per la Sardegna, un modello di governance nuovo e di ispirazione per tutto il contesto mediterraneo. Per questo vi incoraggiamo a collaborare con la rete mediterranea dei manager delle siti Ramsar dell'iniziativa Medved. Non vediamo l'ora di conoscere tutte le novità del vostro progetto e di visitare quanto prima le splendide lagune di Maristanis. Felice giornata mondiale delle zone umide e cordiali saluti dal lago di Ginebra. Grazie. Grazie. Grazie.